Oggi l'avvio ufficiale della perdonanza numero 730, ma il percorso del fuoco del perdono è già iniziato da tempo con la partenza dall'ermo di Santonofrio per arrivare all'Aquila. Ieri sera la fiaccola ha fatto tappa donna per l'edizione numero 45 del fuoco del Morrone, ma quest'anno c'è stata una bella novità che ha riguardato il territorio. Per la prima volta la fiaccola arrivata nella chiesetta di San Pietro Celestino a Pescomaggiore, questa mattina ha proseguito con la gente a piedi sino alla Madonna d'Appari, il bellissimo santuario incastonato nella roccia. Quest'anno per la prima volta siamo riusciti a collegare tra loro la chiesa di San Pietro Celestino V a Paganica con il santuario della Madonna d'Appari perché abbiamo notato che dentro la chiesa della Madonna d'Appari c'è un'opera d'arte nella quale viene rappresentato Celestino V che depone la tiara ed è molto simile a quello che si trova all'interno della chiesetta di San Pietro Celestino appena si entra e quindi diciamo che abbiamo trovato un legame che unisce i due luoghi di culto. Questo per noi è stato importantissimo e anche per noi è una novità perché sinceramente non la conoscevamo questa cosa. Questa sera intanto c'è la serata inaugurale, grande spettacolo, prima l'accensione del Tripode della Pace a Colle Maggio e poi lo spettacolo d'inizio per donanza con sul palco artisti del calibro di Renato Zero, Tiro Mancino con la Pesce di Martino, Malika Iangia, Luca Terranova e The Colors.